Sono 921 di età compresa tra 1 e 95 anni i nuovi casi positivi al covid registrati oggi in Abruzzo con un tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici pari al 2,74%. Numeri dunque in continuo aumento a cavallo tra Natale e Capodanno con ricoveri in area medica in aumento sono infatti 172 pazienti più 12 rispetto a ieri ricoverati in ospedale in area non critica mentre 24 numero invariato in terapia intensiva. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi di età compresa tra 37 e 89 anni uno in provincia di Chieti e due in provincia di Pescara. E il triste bilancio sale a 2634. La provincia dell'Aquila è la più colpita con 311 nuovi casi segue le pescarese con 240, poi Chieti e Teramo quasi a braccetto rispettivamente con 168 e 164 positività in più rispetto a ieri. E i numeri di questi giorni hanno fatto scattare la corsa a vaccini e tamponi. I disagi che si sono registrati al drive-in di Lanciano nelle ultime ore hanno indotto la direzione ASL a emanare un provvedimento per disciplinare l'accesso alle diverse postazioni anche se le difficoltà si sono avute solo nell'area frentana. Al drive-in hanno accesso libero ma con prescrizione del medico minori e positivi al tampone antigenico documentato da referto e gli altri utenti solo con prenotazione. Alla luce dei numeri e delle migliaia di tamponi che il laboratorio dell'Università d'Annunzio si trova a processare, i referti saranno disponibili entro 48 ore grazie al lavoro e all'impegno profuso in questi giorni di festa dai professionisti guidati da Liborio Stupia. L'ASL di Teramo invece torna a raccomandare di prenotarsi attraverso il sistema poste in modo da evitare il disagio di lunghe attese e nel contempo favorire l'organizzazione del lavoro al personale sanitario per quanto riguarda i vaccini. Ci sono 17.000 slot liberi fino al 31 gennaio nei centri vaccinali del Teramano. Per dare ulteriori risposte alle richieste della popolazione durante le festività sono state organizzate iniziative straordinarie. Il 2 gennaio al Palasport di Via Po a Silvi dalle 8 alle 20 sarà organizzato un open day, anche in questo caso è raccomandata la prenotazione verrà data la possibilità di vaccinarsi anche a chi non ha l'appuntamento ma con tempi diversi. A Giulianova invece il centro vaccinale Ipioppi terrà una giornata interamente dedicata alle vaccinazioni sempre il 2 gennaio e altre due mattinate dalle 9 alle 14 mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio sempre con prenotazione. A Pescara invece il Partito Democratico chiede un radicale cambio di rotta sulla gestione delle somministrazioni dei vaccini degli ultimi mesi. L'apertura dell'hub vaccinale nella stazione di Porta Nuova dicono i democratici, arrivate in ritardo dopo l'incredibile scelta iniziale dell'Outlet Village. Non basta più alla luce dell'accelerazione sulle terze dosi e del vaccino per la fascia di età 5-12 anni. C'è bisogno urgente di aprire un ulteriore hub dove poter somministrare anche Pfizer. La città non regge con uno solo spiegano i consiglieri comunali e non comprendiamo le ragioni di questa sottovalutazione da parte della Giunta che solo dopo le nostre denunce ha attivato il centro di Porta Nuova in parziale sostituzione dell'unico hub aperto a quel tempo nell'Outlet Village di Città Sant'Angelo.